sono vivi per miracolo i maschi vivi per miracolo un branco di cani grossi li avevano attaccati perché qua ci portiamo da mangiare pure altre persone vengono e ci portano da mangiare e quindi praticamente secondo me sono arrivano per mangiare che questa è una zona di campagna questo sta proprio male ma mi stanno venendo ad aiutare per prenderlo perché io non ci riesco a prenderlo da sola che impaurito troppo impaurito di solito si avvicinava sempre tesoro tu sei l'unico che non è stato azzannato perché ne sei scappato è stato più furbo questa è la femmina che abbiamo fatto sterilizzare è diventata bellissima pure lei lei è l'altra femminuccia venite qua non vi preoccupate amori vieni qua vieni 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 o intanto patatino che dobbiamo prendere in un modo o nell'altro